Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento antipioggia di Carpos e insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio subito dicendovi il nome di questo abbigliamento perché è la collezione Lot Rain, infatti abbiamo la Lot Rain Jacket e la Lot Rain Pants. Partirei però da quello che è sicuramente l'aspetto fondamentale su un abbigliamento antipioggia, ovvero la sua membrana. Qui parliamo di una membrana sia per la giacca sia per il pantalone di 20.000 colonne d'acqua di impermeabilità e 15.000 di traspirabilità. 20.000 di impermeabilità direi che va molto bene, nella norma non si avranno problemi anche sotto delle piogge molto forti. Lato traspirabilità, queste 15.000 diciamo che sono abbastanza nella media, mi sarei aspettato un qualcos'è di più, soprattutto lato traspirabilità. Quello che però è secondo me l'allarma vincente di questa membrana è che è una membrana idrofina non porosa. Se non sapete cosa vogliono dire queste parole, ho fatto un video riguardo sulle membrane, ve lo lascio qua in alto a destra, in cui spiego per bene tutte le differenze tra le membrane. Per farla breve però, una membrana idrofina non porosa semplicemente non ha i pori e questo è ottimo su una tal giacca pensata per attività ad alto tasso aerobico, perché vuol dire che il sudore e il sebo della pelle non andranno a chiudere i pori rendendo la traspirabilità praticamente nulla. Il secondo aspetto che più mi è piaciuto è la loro leggerezza, perché parliamo di 180 grammi per la giacca e 210 grammi per il pantalone. Ma non solo, perché poi una volta richiusi diventano veramente piccoli, cioè la giacca una volta richiusa è poco più grande di una pallina da tennis, quindi diventa veramente piccola. E sono ottime queste due feature perché possiamo praticamente prendere l'abbigliamento, metterlo in uno zaino e dimenticarcelo lì. Peserà poco quando lo andremo a trasportare, occuperà poco spazio, quindi per dell'abbigliamento che secondo me si potrebbe sempre portare dietro nello zaino in caso di pioggia, ecco che leggerezza e anche comprimibilità sono un aspetto veramente importante. Parlando però delle caratteristiche di questo abbigliamento iniziamo dalla giacca che è composta da una zippa anteriore IKK che lavora veramente molto bene, non ha nessun problema, l'ha utilizzata veramente tanto e non si è rotto nessun dentino, quindi ottima. Ed è IKK anche la cerniera della taschina che troviamo all'altezza del petto sulla sinistra, dove possiamo andare a riporre all'interno un qualche oggetto e questa tasca è anche dove andare a richiudere la giacca quando vogliamo riporla per far diventare piccolina. Per quanto riguarda le estremità, nella parte inferiore abbiamo la possibilità di tirare i cordini per andare ad avvicinarci alla giacca evitando che entri aria fredda, idem sui polsini abbiamo la possibilità di andare a chiudere lo strap per lo stesso motivo. Aspetto molto interessante che è una piccola chicca è che se dovessimo correre con la giacca aperta per far uscire l'umidità e aumentare la traspirabilità abbiamo comunque un bottone da andare a chiudere nella parte anteriore per evitare che la giacca ci faccia effetto mantello che quindi ci disturbi anche. Una piccola chicca ma che vi assicuro se utilizzate molto spesso una giacca sono sicuro che troverete veramente utile. Per quanto riguarda poi il cappuccio, questo è regolabile nella parte posteriore, ha una piccola visiera sulla parte anteriore per evitare che ci arrivi l'acqua in faccia è comunque un cappuccio abbastanza classico. È una giacca minimal come avete visto, tasche ne abbiamo solamente una nella parte esterna, non abbiamo tasche interne, non abbiamo fronzoli, è una tasca che punta molto al sodo magari andando a sacrificare un pochino di funzionalità. Però comunque già che abbiamo una tasca sulla parte anteriore non è detto sempre che si possano trovare su questo tipo di guscio. Passando invece al pantalone la caratteristica che più mi è piaciuta è che troviamo due zip laterali che si aprono per il 99%. Nel senso che il pantalone non si apre completamente, ci sono un 10 cm finali che non si aprono, ma questo non è un problema perché queste due zip, una volta che le abbiamo aperte tutte, ci permettono di indossare il pantalone senza dover andare a togliere gli scarponi o le scarpe che abbiamo ai piedi. Quindi nel momento in cui dovesse arrivare un temporale improvviso, in 20 secondi li abbiamo indossati e ci possiamo riparare dalla pioggia. E poi queste due zip ci permettono anche di poter andare ad aprire il pantalone per aumentarne la traspirabilità nel momento in cui magari stiamo andando a sudare molto. Zip, anche loro, i KK che lavorano veramente molto molto bene. E poi nella parte superiore innanzitutto questa è composta da un elastico che quindi fa far avvicinare molto bene la chiusura superiore attorno alla nostra vita. E nella parte anteriore troviamo anche un cordino da andare a tirare proprio per serrarlo al meglio. Non è possibile aggiungere una cintura esterna perché non ci sono i passanti. Lo stesso tipo di elastico, infine, lo troviamo nella parte inferiore attorno alla nostra caviglia proprio per andare anche qua a chiudere il pantalone attorno alla caviglia e evitare che entri aria fredda o possa entrare acqua. Devo dire che dal punto di vista delle funzionalità un pantalone minimal, anche lui, poche tasche, poche peculiarità, ma punta molto al sodo. L'unica cosa è che non abbiamo una vera tasca dove andare a richiuderlo. Quindi una volta che noi dovremo andare a richiudere il pantalone, anche lui diventa piccolo, ma non c'è una vera tasca in cui proprio andare a richiuderlo con la zip. Quindi dovremo un po' arrangiarci quando lo mettiamo nello zaino. Arriviamo infine alle conclusioni, parliamo dei prezzi, perché secondo me anche loro sono molto interessanti. Possiamo comprare online sia la giacca che il pantalone a un prezzo di 130-140 euro. Quindi messi insieme parliamo di 260-280 euro. Ne vale la pena? Secondo me sì, soprattutto se andate a fare dei lunghi trekking, avere dell'abbigliamento impermeabile dietro è fondamentale. Per chi fa trail running, anche lì molte volte sono proprio richieste del materiale obbligatorio, quindi assolutamente interessanti. Materiali duraturi potremmo utilizzarlo davvero per tanto tanto tempo. E poi secondo me questo tipo di membrana che va bene, la traspirabilità non è eccessa, però essendo una membrana idrofila non porosa, ci eviterà che la traspirabilità diventi nulla nel momento in cui andiamo a correre e a sudare tanto. Quindi dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, secondo me è veramente molto alto. E detto ciò ragazzi, non ho spero che sia stato esauramente esaustivo anche per questa recensione. Vi ringrazio l'ho guardata e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!